Ehm, ciao! Oggi siamo tratti in un nuovo video su Minecraft e quest'oggi i mob del gioco ci tratteranno come degli schiavi Ci daranno delle missioni che noi dovremo adempire per poter giungere alla fine Ma che volevo? Lui è il primo mob, lui è uno zombie e sotto queste altre cage ce ne sono degli altri Quello è già partito, non so neanche cosa dica lo zombie Ma il nostro zombie ci richiede a fame e vuole 16 polli per poter esserne sazi Una volta presi i polli li metti nella cesta e prendi il pulsante Lui è già partito perché... Fantastico, eh! Non è in grado di aspettare un secondo No, io non sono capace di aspettare ragazzi, cioè io odio aspettare Anche quando la gente arriva in Italia, mi dà fastidio, devono veramente esplodere No, allora, va bene, io dico di prendere fuoco ma esplodere è anche peggio Perché rovini anche l'ambiente attorno a te Comunque, a parte... no, sei più per le esplosioni tu, va bene E polli, puoi non sterminare tutti i polli di questa povera pianura, per favore? No, ce ne sono tanti Facciamo 50-50? Ci sono per entrambi, tranquillo Sei sicuro? 16 polli, eh! Sono già sette, tu quanto sei? Uno, dovremmo accoppiarli forse Questo è uno sfruttamento intensivo Sono alleviati con gli antibiotici? No, questi qua no, questi qui sono di allevamento biologico Ah, biologico addirittura, dici? Eh sì Non lo so, eh, ce ne sono un po' troppi in questo metro quadrato per essere un allevamento non intensivo Ah, tu dici che è intensivo questo? Secondo me c'è l'intensività anche su Minecraft Però non... non parliamo di queste cose perché... Ah, io ti dico che ne sto cedendo più di altri così almeno te li tolgo a te Sei proprio una testa di culo, ho capito insomma No, sto scherzando, vai che qua è pieno Zio, da me, da me Dietro da me ce ne erano 25 Tranquillo che sono nel chilling Tu quando hai fatto sazia quello zombie che tanto ce ne sono altri Ma gli posso buttare dentro la mia cacca qua dentro? Vediamo Non puoi mettergli questo? Ha funzionato, che bomba Allora Oh, ma da Marci, mi potresti aiutare a raccogliere 128 bastoncini? Ma tu sei scemo, ma zio, ma cosa deve svegliarsi? Mi hai limitato la lettura? Grazie 128 bastoncini hai detto Sì, però Tutto rispetto Ma io mi sa che Naccetta me la faccio perché Io mi faccio... No, io addirittura mi vado a far l'accetta in pietra Se no esco pazzo Allora Mi bastano questi cosi che ho qua? Non basteranno mai 4 stack sono, no? No, 128 sono 2 stack Ok, grazie Skeletrons Alla prossima Ragione bro, sono 2 stack Ma l'ho fatto anch'io Ho un po' paura dell'acqua Ma vedi un po' che non mi lavo Potresti... Adesso lo dici Io te l'ho detto prima Vabbè, tanto non puoi portarti avanti 16 bottigliette d'acqua Mi sa che mi faccio anche una pala e un piccone Già che ci sono Ah, guarda Veramente incredibile Qua c'è un common block Non andiamo di qua No, io non scaverei in questa zona Ma come ho fatto a beccare il common block? Dimmelo Non lo so Allora Quante bolle... E i bolletti Vabbè 16 16 quindi sono 16 diviso 3 8 8 No, quante ne devo fare? Quante me li danno a bociglietta? 3 divieta... Non so giocare a Minecraft 3 divieta Alla sabbia dove è esattamente? Ma la sabbia è a fianco allo spawn Ti consiglio di avvizzare la vistas Oh, mi intendi rubare dalle mie bottiglie? Dalle mie fornacce scusami No Ah, vi ragiono Perché dobbiamo ricorrere a queste cose? No, perché pensavo mi stassi prendendo per il sedere Ti giuro Ho detto ma io mi stai prendendo per il culo Vabbè, ok Allora, quindi Se 3 cosini mi danno 3 boccette In teoria mi basta sta sabbia che ho preso Ma ci vuole 3 quarti d'ora a cuocersi Cosa faccio nel frattempo? Faccio gli attrezzi in pietra? O attendo? Guardando che nessuno derubi La mia povera party table Stai lontano Non puoi rubare No, nei tuoi video non rubo Nei miei video perché è divertente Non si ruba È un brutto insegnamento Ho bisogno di legna Lo stato ci ruba però E dovrebbe darci un buon insegnamento Non capisco il nesso allora Non so di preciso il motivo E non voglio entrarne in particolare in questo video Le tasse servono a garantire una sanità Ma comunque Come E poi la sanità pubblica devi andare in privato Perché sennò ti danno l'appuntamento dopo 4 anni Sì, questo può capitare Comunque Quanto vetro ho Ho pensato Sì ma questo video non è un appello politico verso nessuno È un video di Minecraft Sono veramente incabbato in questo momento Ecco adesso sono arrabbiato Ho capito Va bene Io sto prendendo un po' di Cosblastons Ma te ne servono 16? Sono tanti 16 bro Troppi No? Eh un po' sì effettivamente 16 boccette pieni Poi consiglio che riempono uno slot a testa Lo so bro Quindi ti conviene riempire tutte alla fine Per non avere un inventario pieno Dato che veniamo da un video in cui un inventario era molto Ehi 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 Ma tu pensi che non ti abbia visto? Ma hai rubato tutto Ma tu pensi che non ti abbia visto? Ma io te l'ho rubato uno Petino Testa di culo Vuole provare a rubare al ladro Vuole provare a rubare Ma non è un vanto essere un ladro Non sono un ladro Hai provato a rubare al ladro E cosa vuol dire questa frase? Che sei un ladro In questo momento ho fatto al ladro Ti hai comportato male Ma ho rubato un pezzo di vetro Ti hai comportato malissimo Mi serviva quel pezzo di vetro Io ti lancio un sassonino Tu mi lanci un macigno E mi demolisci casa Vado Io ti ho rubato il legno Va bene È vero il legno ce l'ho Ma tanto ne ho un botto in inventario Ma che me ne frega del legno Va bene Va bene No worries Mi dai una boccetta Ti avanza per caso? Perché ne ho solo 15 No Quindi devo fare altre 3 per forza No No Posso cittarmela? No Eh no Tutto noi sto mondo Eh no Eh no Io non so quante ne ho in questo momento 9 10 Oh madonna mia Che sbatta bro Mi manca solo un pezzo di vetro Che sbatta Eh anche Eh Eh A me pensa te Pensa te Cosa è successo qui? Sempre lo stato Quante sono? A posto 3 6 9 2 Sono qui Anch'io sono nella tua stanza Senti tu Eh Questo è un peccato Andrò a dare intanto le mie 16 boccettine d'acqua Al mio povero Enderman E cos'è che devi Cos'è quella dopo? Eh non lo so Si deve ancora scoprire il Il cubo Allora Bevi pure carissimo Bevi quello che vuoi Io intanto vado dal prossimo Parlate di me Vuole comprare? No Ti vuole Tu vuole portare Ma chi è? È diventato Pachi questo Vabbè il prossimo lavoro Pachi No Glory Glory no Ehm Il prossimo lavoro è È un bel lavoro Te lo consiglio Mi ricordo un fan che un giorno mi dice Mi Ma tu conosci Glory? Mi penso Glory Eh sì C'è un tizio che fa il feed con Pachi Che si chiama Glory Perché pensavano che Non credo funzioni così Però Se vuoi Crederlo va bene Hai visto un villaggio nelle tue ronde notturne? Al 64 semeni dove li trovo io Che palle Eh hai visto un villaggio nelle tue ronde notturne? No Sto prendendo così normalmente a mano Sono già a 32 io Non è così impossibile Sono a 6 sono Dai sono solo a 39 Eh Ci sono solo fiori in sto posto Io ne ho 64 di semeni Carissimo Tieni qua Mangiateli tutti Buongiorno Dai bro Oro 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 Por Eh? Porca puzzola Ehm Allora Abbiamo un problema Che chiede? Eh È stitico bro Oro 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 Portami 8 lingotti di o Allora semeni Ma il portale? Ah lingotti d'oro Ma quel portale Perché è così triste quel portale? Ma è apparso quando tu hai fatto la sfida Ma è veramente tristissimo un portale Senti ascolta Se non ci mettiamo d'accordo Non ne vedremo mai in questo portale Ok fermo Ok fermo Una alla volta E andiamo Tra l'altro Mi sa che conviene farlo con il nether Molto bene Mi hai spinto tu Ma chi ta spinta? Ma che sta a dire? Ho stunto fuori Ma da marci 8 per 9 per 8 Che fa? 9 per 8 E quanto fa? Dai 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 ci risultato Non ci vuoi ricontare su? Quanto fa? Io non te lo dico Ti dico È uno stack più qualcosina Eh dai Che non ho voglia Ne prenderò uno stack più qualcosina Uno stack è qualcosa Dai Fai 9 per 8 Per 8 volte Allora 9 Ricordi che quando è per 8 È sulla settantina Poi c'è il 36 Poi 45 82 Oh wow È un numero veramente alto Sono quasi arrivati a 72 Ok Tu anche poveri che ti sei ucciso Parlate di me Surpassing Yes bro Boom Ragazzi c'è il blaze Che ti chiede il Jaws? 128 Cosa? Ah come faccio a pigliare tutta questa cosa? Ok Ho quello che mi serve Arrivo Quindi cosa serve dopo? Io se fossi in te mi ammazzerei E anche molto in fretta Mi sto provando ad uccidere Ma questo fuoco non brucia tantamente tanto Da uccidermi È un po' lento E devo dirti la verità Ok Eccomi qua Allora Pilgin Abbiamo il nostro bellissimo oro Mi ha regalato una crafting table Grazie Con la poeta da Ubo 8 lingotti d'oro Sbam Che caldo 120 Perché mi hai detto di uccidermi Se serve la netherrack? Perché devi fare in fretta Per sbloccare questa nuova missione Non potevi dire ad alta voce Che ti sei ucciso Tranquillo Guarda tranquillo Tranquillo che io sono nella cacca Sono Hai già ripreso la netherrack Che ti sei ucciso? O sei morto? No no bro Non hai capito Ho finito il piccone Potrebbe finire anche il mio Potrebbe finire Vedo la sua durabilità che scende Ah quante è la durabilità che c'hai? Eh già quasi a metà E non ho uno stack Eh mi sa che ti finisce allora Ho un piccone in piccone Non ho neanche un piccone in legno Vuoi tornare con me a farne un altro? No no Dai vieni con me a farne un altro Insieme È tutto più divertente Grazie mille Ti bastava? Non trovato giusti giusti presi Ah si? Ho capito Vabbè Mi faccio un piccone e torno Non ti credere che avrai molto vantaggio Bomba cosa vuole l'ape? Puoi dirla in alta voce per cortesia 64 fiori Beh un po' ce li ho Perché li ho presi prima Prendo i cosi Io no Me ne prendi un po' anche per me? 13 Io ne ho 18 18 24 25 26 27 28 Ne ho Ma come facci? Ma che problemi hai Che giri con 28 fiori nell'inventario? Sì prima prendevamo i semi Ho capito i semi Becchi il fiore No ma perché questo Ma tu sai quanti fiori ci sono qua dietro? No Potrei essere reso conto Eh vieni a vedere Eh un attimo sto ancora prendendo la netherrack qui Ti outplay io qua eh? Non mi outplay Sicuramente ci sarà qualcosa che ti fermerà Eh io non le so le sfide Tu le sai Non le so io Potrebbe essere anche una diarrea Esce una diarrea Ah mi uccido Ok Salve Chi abbiamo dopo quindi? Non so quanto arrivo io eh Di Di fiori Quanti hai detto che ne servono? Tieni qua 64 Oh mamma Ma questa è proprio una gattineria Proprio Sopra umana Io sto ancora raccogliendo fiori Ma avrei pensato nella mia vita Di raccogliere 64 fiori No bro Questo è veramente difficile Questa roba Che cosa? Che cos'è? Che mob è? Non so chi gli sia venuto in mente Quest'idea di M Perché è veramente Un'idea di M Leggi bene ad alta voce La sfida dopo per favore Ne ho proprio bisogno Voglio vedere la tua reazione Voglio vedere la tua reazione Io spero siano giusti Non li andrò a contare Gentilmente Nico Puoi donarvi 120 Ti posso nascondere me 128 Si leggi bene Cosa? 128 Leggi bene 128 stone brick Ho bisogno di carburante Ho bisogno di carburante Per alimentare La mia fabbrica Illegale E sfruttata Non Quello è su GTA Ma non c'è più mezzo albero In sta zona Ma che è successo? La guardia forestale Non sarebbe contenta Di tutto ciò No per niente Per niente proprio Non va bene Non va bene Sono ora Uno stack e 4 Io sono a uno stack e 48 Sono una fornace in più dannato Devo fare Oh Quante ne hai? Quante ne hai? Solo due purtroppo di fornaci Io ne ho 5 Attualmente che vanno 5 Attualmente che vanno sì Eh io devo ampliare il mio business Purtroppo non Non ho investito in fornaci Ma come mai? Che stupido Eh le vedevo un po' Ingombranti Calde Sai c'è già sul riscaldamento globale Ma io Io ho investito anche sul cerco Quale ho investito anche Questo è un buon investimento Ma posso uccidermi in qualche modo? Ma certo Ucciditi In compenso pianto degli alberelli No Grazie In qualche modo era inteso Lecito Ah ma io ho chiesto eh Ho chiesto proprio A parte che vabbè ero vicino Ma io ho compensato con degli alberelli Che cosa devi fare? Oggi sono previsti scippi Madame Arce 16 di ferro grezzo o scippi Dai che palle Cos'è che c'è agli scippi? Così ha scritto Madame Arce 16 di ferro grezzo o scippi? Che cacchio ti devo dire? No vabbè Ok Ho capito Ma ci sarà una che aveva Ecco qua ferro Quanti ne chiedeva di ferro il giovine Troppi Troppi ne chiede E troppi tradotto in numeri Vediamo se arrivo te lo dico Ma perché? Sono ancora a cuocere pietra io Però io ho fatto i 16 di ferro grezzo E ti lembro 16? Che cosa vuoi che siano 16 in confronto a due stack di cosi? 16 comunque Detro alla caverna e tutto comunque Io ora la caverna la trovo Scavando a caso Altrimenti inizio a urlare E mamma si arrabbia e mi caccia di casa Venti passo Salve Oh ho un piccone Ciao Hai capito Picco perché l'hai trovata velocemente Ho compreso Ho compreso tutto Quanto scava veloce? Abbastanza Non è come piace a me Bene Anche la volpe è stata fatta Cosa c'è dopo la volpe? Oh madonna mia E dove li trovo? No questo non so Deve trovarle veramente Dimmi che cos'è Potrei aiutarti? No No vabbè No non ci posso credere La mia vita è veramente Un disastro La mia vita è veramente Un disastro È un disastro Scavato dentro una pozza di lava Vabbè Veramente? E sei morto? Ah si sei morto Ma come hai fatto bro? Non so Io penso di aver bisogno di uno psicologo E si ammessi qua? Ancora me ne servono? Eh si Immagino Perché lo servono le creeper? Ma chi è che mi picchi? È un ragno Ma da dove è uscito? No non servono i creeper In realtà è a È in superficie Quello che ti serve dopo È un mob? Uno Due Sì è un mob Non mi ricordo quanti ne servivano di fare Tre mob Sedici Tre mob Sono sedici veramente? Sedici Se puoi scoprire essere di più Sai che non ti parlerò per il prossimo mese? Sixteen Sixteen Va bene mi fido Ma il problema è che non c'è il ferro Poi invece Ferro Quanto ferro? Bello ferro Ma hai fatto pure il pesce Il pesce cosa chiede? Però questo è troppo Quello che ha chiesto è troppo Cosa vuol dire è troppo? Cosa chiede? Chi è? Quando è? Ma quale Ah questo qua è quello veloce Sì Ho bisogno di Vabbè mi ammazzo Vado a dare il mio ferro Alla volpe Se no mi sci Mi sono finito di farmi scippare Alla volpe su minecraft Allora cara volpe Tieni qua Scippameli pure Ora C'è un pesce palla Che cosa vuole pesce palla? Degli squid Mi hanno dato Della palla gonfiata Puoi sterminarli È tutto così drastico Questo video Boh Una palla gonfiata Vuole sterminare gli squid Perché c'è della cobblestone Qua in giro? Era divertente Vero? No Ho passato la mia vita Scavare cobblestone Non la voglio più vedere In vita mia Quante me ne chiedeva? Dieci Dieci Prego Dammene due Due in un colpo solo Può succedere Una cosa del genere Quanto mi recuperi dopo Perché oggi sono sfigato Sotto sto punto di vista Quale aspetto? Dopo che lui è misterioso Ho detto dopo capirai E no io voglio capire ora No 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 Così mi metti curiosità Diamonds Penso che tu abbia capito Quanti diamanti ti servono? Un altro pochettino Non è che magari questo qua Può servire dopo? Come lo prendere per curiosità? Poi lo stessa porta avanti Senza manco conoscere cose Boh Ho capito Ho capito Quanti squid sono nati In mezzo secondo Per l'amore del signore Manca me prima bro Infatti ho detto Ma c'è qualcuno dall'alto Che mi sta sponando Ma non abbiamo questo budget noi Ma c'è un weeder Che cosa ti hai chiesto? Il weeder Eh Ciao weeder Mi dici che vuoi? Mi vuole un'armatura completa in diamante Un'armatura in diamante E ti uccido Ho capito Bro non esce manco un diamante No vabbè ragazzi Questa cosa non ha senso Ma cos'ha sto piccone? O non c'è scritto? È veloce Ok almeno quello Livello 12 Però devi usare l'altro Perché questo qui non c'è scritto Che fortuna abbia Quindi non lo sto usando Sto usando l'altro con fortuna 4 Magari c'è fortuna ancora più alta questo Spero di no Perché non sarebbe corretto Cappuzzola Cappuzzola Mo' te lo dico Lo testo su un diamante Anche se il mio diamante Non è un gran mezzo Ma sono in un tuo tunnel Ti prego Ma a parte che scusa Proprio sul coal Eh sì il coal mi dà Non lo so Credo Sia leggermente più alto O uguale No dai non è giusto No dai non è giusto Io no Non lo reputerei corretto Ma non Zì non trovo diamanti Sono a livello 12 Vado un ettino più giù No marci credo abbia fortuna No dai non è giusto Credo abbia decisamente fortuna Eh ma ero avanti di due Praticamente E per i diamanti È riuscito a raggiungermi Boh veramente Io non ci posso Che vuole mo Sei arrivato alla fine Niko portami Che senso portami Ciao Portami una testa Vuole una testa Non so come Ma la troviamo Non so come avere una testa invece Anche perché ho visto che il drago non c'è Dov'è Dov'è È tutto culo praticamente Chi ha più culo Tu Quindi è finita per me Addirittura ci vai così Senza neanche prender l'enderperlo Tanto bro È qua Eh sono mille blocchi Devi fare no Non è vero 500 tipo Eh mi sa che sono Mi sa che la mia scelta è stata la migliore Tanto bro C'è l'end city da trovare Io troverò sicuramente Al 100% Trovo l'end city Sai quale Quella senza nave Ma sicuro Ma è sicuro Antirazio Ho due stack Posso spammarli Andiamo Al momento Sono in mezzo al void Non vedo assolutamente niente Guarda la Y Prima che vai nel vuoto Che non te ne rendi conto a volte La Y non è a 40 Fino lì posso arrivarci Eh ma non mi carica bro Ho questo piccolo problema Io non capisco se non mi carico Se sono in mezzo al void No bro Non carica Non carica più Cioè sono in un punto Dove non carica Stiamo andando a quelle di tre in due parti Oh Sta caricandomi Adesso ha caricato Eh ma perché il void è molto pesante da caricare Sai Le varie strutture Capisco che si intende con non carica Hai già trovato l'end city? Ma magari Io sono nel vuoto Non vedo niente bro Io vedo un cianco alla volta Eh anch'io Come cacchio facciamo? Vai Non ci credo Eh non carica Sto nel vuoto Io non ci credo Ha trovato quella con la nave sicuro Ha trovato quella con la nave Io non manco l'ensito ho trovato Che palle Quelle di fortuna Non le vinco mai Io veramente Non è di fortuna Le skills Attenzione Le skills Cosa che manco caricare Adesso carica Vabbè sono skills A modo loro Drago Ho ciò che ti serve Ciao a tutti Guarda No no Non puoi prendere le sfide in questo modo Tieni la tua testa Ma me la sono presa troppo male Io ho vinto Noi ci vediamo poi prossimamente Con un nuovo video Ciao a tutti Ciao ciao E' arrabbiato Vabbè Passerà Ciao a tutti